c'è un amico dentro di noi ecco madonna mia subito attacco aereo basta che mirate con ok vai io non l'ho tirato eh sarà molto 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 dura già lo so ma guarda non vedo la guarda eh mirate mirate con l'ira ragazze non sparate no no io dopo qui mi passano i colpi e toglierlo allora ho messo il sabato però non so nemmeno perché ma per il corno eh non l'ho mai usato dove è mi chiedo che mi sa che posso da voi è mio la cosa è strana la cosa è strana è matti che non andevo morito ma io quando gioco sei o quando mi ammazzano no non è che perdiamo per il tempo qua un attimo non c'è il tempo abbiamo finito non c'è il tempo ormai ok allora vai e poi c'è anche se finisce il tempo si chiude pull a tape e cioè non è che ti fa culpare in quando non muori no perchè mi sto da me e vada è mai costa? no venga basta è costato il geyser fate molte più donne però dovete essere bravi perchè dovete beccarlo subito e tutto è un po' un casino raga ognuno si mette in un lato si potenzia quelle se strutture ecco posteraggio dai danno lo fa dai danno lo fa dai danno lo fa co che merda avere così è il fratellotto che appace e raga ognuno si mette in un lato mi raccomando mamma mia buono preciso col geyser ma vabbè la montagna è sfrutturata perchè i vieni sempre da me si ma io con 400 con 400 vai danno ce la faccio lei è da marzo mazza sto arrivando con vabbè già sono matti da te grazie grazie ottimo grazie da un'attacchetta l'abbiamo levata ma come si sta fegando le peggone questi due di puttani io li sto piazzando non è questo no io mi ci ho fatto un gettio dove raga chi c'ha istinto ogni volta che cosa le abilità si prende la vita quindi usate anche la tesla e l'impatto no 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 e nuove la lecce la dico provincia di black che si faceva l'avventura ogni tanto c'è stato anche luca 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 o vai giocare di labbra foro sto lavorando stanno facendo dei segreti non mi so mamma mia guarda sempre stessa guarda se sempre per me non so abituarla da controllo con un tranquillo alessandri ma tu quello che fai non lo fai da che mi era da due anni che mi usavo il controllo quindi matti guarda qua io lo prendo sempre ultimo attacco aereo e vado io 10 secondi e poi un altro attacchetto l'abbiamo fatta no è preciso mamma mia non aveva una baggata guarda qua guarda qua si mette neanche un bambino all'ora nel medico ma gli stacco la testa mio cugino di bordo la stampa lei la tira in testa di euro qualcuno mi racconti ma non è che mi ha dire ancora la carta e aspetta andiamo a restare a domenica di me se vedi mi devo vedere l'arte di questo bel gioco Vado io, vado io Ma, oggi vuole questa pedana Eh, eh, il motivo per cui sono morto Matti Ciao No, Matti, guarda un po' Ma Dimmi te Raga, ho visto una pedana all'accordare Ma che stiamo avvenendo Matti, hai visto dove sono? Preciso Dove sei? Sono morto Ma un po' più fuori dalla mappa Ma Non ho capito il come Eh Era un po' avvenitivo responato, non so in che punto la mappa Forse ha preso il raggio Eh, sono Sì Ma ho fatto sponare sotto il coso Dove ti ha fatto sponare? La caverna Sì, sì, sì Ma C'è, ma Adesso arrivo, adesso arrivo Adesso arrivo, adesso arrivo Lo sai, lo sai Se fai la botta tipo Qua secondo me No, 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 no Faccio In teoria ci dovrebbe essere una cosa Sì, lo vedo, lo vedo Non so però che farlo Eh, falla, falla, falla Però non so se va A parte Eh, ecco, esatto Tipo gold Tipo gold No, no, c'è, c'è Ma è tutto questo, raga Ma io e Matti Mi stiamo capiando, eh Ma che E' quel capiato, proprio Spam di pedane, Matti Spam di pedane Spam di pedane Io non faccio le abilità Sto facendo le vostre Mica, 20.000 Avevo di vita Aspetta che rochillare il cazzo di Smasher No, niente La metterà di merda Ciao No, era me lo faccio pure l'aria Eh, vado Fatemi chi la è sto maledetto Smasher Ma anche te che mi stanno inseguendo Eh, chi l'altro Che l'altro Che mi è il mini che... Eh, il mini pure vortice, lo so C'è capitato proprio di merda No, mi ha tirato Non mi è fatto lasciato Non voglio dire Aspetta che il raggio lì No, sono morto Non mi do, non mi do Do me, muori Che fai come me Una morte No No No, non mi do Il mini di merda Ma che il mini che cazzo è molto forte Sto arrivando Sono morto alla fine Comunque non so se ho menta di tanto il buffer con i gadget No, ma non aumenta No, ma non aumenta Ma già di su se mi sbaglio Sa che il buffer non aumenta? Cosa? Siamo morti tutti Però alla fine Madonna mia Mi sa che già il buffer di suo non aumenta sai No, no aumenta aumenta 50% c'è scritto Che poi non mi ha mai interessato più tanto per testarlo Sì ma il buffer all'orangeria dovrebbe aumentare già di suo Però è buggato e non aumenta Eh appunto No, no scusami eh Perché devi ruttare solo verso di me? Eh ruttate Vesuvia Vesuvio Lava lì al fuoco Lava lì al fuoco Sei bosto Qua mi sbocca addosso No, no scusami Ti sbocca addosso Sbocca 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 Taker Vincenzo Vincenzo è morto Ma lascia lo stavo vincenzo Stai andato a far bagnare Ma che è Vincenzo Don't try Sì Ah ragazzi ragazzi Stavo facendo challenge del secondo Senza morire arriva il mini voci Cioè mi fa morire una volta Ah a me la pedale è una buggata Eh la pedale è una buggata Dai oh L'abbiamo fatto Ancora due persone No manco una Eh 40 secondi No no due due filetti Anzi io facciamone uno Facciamone uno e l'altro picconiamolo Vai 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 Ok Chi ce l'ha chi ce l'ha Io ce l'ho fra 58 Io ho 58 Io ce l'ho fra 52 27 Dome Dome Guardando guarda Allora lo fa Lo fa Alessandrino Lo fa Ok La picconiamo La picconiamo Vai vai Sul box Ah il pedallino Ma l'ho totta 10 mila col piccone Mi dissero Ma non lo picconiamo ancora No no ora ancora no No c'è il minimo Atti Però tiralo bene Il coso Sto andando Vai Alessandrino Ho sentito Facciate se si è fottato Per noi Preciso Picconiamo 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 Ha preso Coraggio Inci Tranquilla Chi che ha pensato L'attacco aereo No ragazzi Ho picconato Se hai picconato Un cazzo Ho vinto L'attacco aereo Di nulla di nulla Comunque Comunque Io nel re mitico Sono pepe Nson fine Ragazzi Anche io ho arma mitica No no ma quello senza nome Luca mitico Si 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 chiama Sperma Verma Non mi sbaglio Rame ferma Non dà uno Oh Alessandrino è forte Matti E mi sai Dicono che sia un peppone Alessandrino Lo dico io Almeno ti dico così Quando ti dicono Che sia un peppone Io sono negli Ice Dice un peppone